Gentile pubblico, prima di dare via al nostro spettacolo internazionale, abbiamo il piacere di presentare a Giaccio una giovanissima tetta al cane. A sua mente di 12 anni, gareggia nella categoria principianti vivi, ha ottenuto in questa stagione 4 secondi posti e un terzo posto. Un applauso per Ogni Ogni Ogni. Grazie. 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 Grazie a tutti.